a passeggio fra le nuvole qui siamo a nord della Valgana, quello è il lago di Ghirlà qui Lugano Quota, siamo a 2.020 Scacromonte, Campo dei Fiori Oggi è una giornata molto potente ma sotto le nuve è molto turbonente bisogna stare attenti ci sono dei comuni che sovrasviluppano come questo qua un'unica Forza, l'edifico di parcia 8 sinistra via volcote e covectivo, scusate. Forza, 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 linea per 1-9, wind 2-0 degrees, portate, 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 portate. Passiamo tra le nuvole, così vedete cosa si prova. Non sembra neanche vero. Non sembra neanche vero. Non sembra neanche vero. Organatore Delta 177, 1800 metri sul Piambello, si è autorizzato per San Giorgio. Ricciuto, richiamatevi lasciando San Giorgio. Richiamo lasciando San Giorgio, Delta 77. Adesso stiamo attraversando l'avvicinamento della pista che è lì, non so se la riesco a inquadrare. La pista di Lugano. Quindi quando si attraversa di qua bisogna sempre, sempre avvisare. Lugano e Torni, da India, November, India, buongiorno. India, November, India, buongiorno. Lugano e buongiorno, November, India, November, India, buongiorno. November, India, November, India, sulla verticale, per queste termini chiede per l'ingresso a direzione Piambello. 2009 su Lacca. Bocciato! Ecco qua, si scende sempre, andate a capire perché. Adesso c'è questo cumulo, vediamo se da. C'è questo cumulo, è il punto a direzione Piembello. sempre in mezzo, così che man mano che ti avvicini vedi quale è migliore, adesso sembra migliore quello lì a sinistra, se no ci buttiamo giù in pieno. Sto andando verso Como, quale è il Generoso, qui sotto c'è Porta Ceresium, siamo andati all'Occarno, a dopo, ciao!